A Basti è venuto oggi il Presidente della Repubblica per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Vittorio Alfieri, poeta repubblicano. Questo il cortile della casa paterna dove trascorse, egli dice, la stupida vegetazione infantile. Qui colse la cicuta con cui verso gli otto anni voleva darsi morte per umor malinconico. Aveva capelli rossi, occhio incavato. Sul registro delle nascite un nome destinato all'immortalità. Studiò il greco verso i quarant'anni. Ecco il secondo rifacimento dell'alceste Euripidea che egli dedicò alla sua donna. Il crocifisso, il letto dove ancora inseguiva versi e fantasmi. E la sedia famosa a cui si faceva legare quando ancora non era venuta l'ora della gloria.